Ce l'ha quello di marzo, anzi di aprile a casa, sono divisi. Calcetto, Keto, Giovanito, nuovo baronetto. Flavio Bellato, new entry, interista doc. Presidente, la pallina che ha portato un'ista. Gianni che va via, che saluta, ti vedi, è verificato. Vembrana, il nuovo il letto che aiuta. Questo è l'unico giocatore che ha ping pong, vuole e para, vedi? Adesso lo vediamo più attenzialmente, attenzione. Ecco il passo, guardate il passo, vuole e para, vediamo, attenzione. Eccolo lì, attenzione, posizione dell'orso. Eccolo qua, voga, vedi? Niente, no, no, è un po' arrabbiato perché te e camera non si abituati, ma adesso vediamo un attimino, eccolo qua. Voga, eccola, e para. Vedi? Buongiorno. Saluta i tuoi fans, la voga e para. I fans della voga e para. I sei qua da tutto il mondo che vieni qua. Eccolo qua, eccola. Ho voga, eccola, e para. Vedete? 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 Posizione da dietro, guardate il mondoliere. Vedete? È massiccio, è massiccio. Vedete i piedi che si muovono come vuole e para, vedete? 12-3. Eh sì. Di là si gioca ancora calcetto. Ma venite con me, vi porto a vedere altre cose, vi porto a vedere nell'altra stanza, venite a vedere com'è. Noi siamo in terra di nessuno, attenzione. Questa è la seconda, la seconda, eccola qua. Qua invece c'è Valerio Eternauta, detto anche Felix. Qua c'è Cardoni, il professore, il nostro specialista di musica. Qua c'è Kimi Alezzabibi, il nostro spettacolare giocatore di ping pong. Signore e signori, dal nostro minotauro. Minotauro... Quando vedete così vuol dire che l'ordine andrà a letto, eh. Buona serata a tutti, ciao ciao!